Prosegue la campagna itinerante di screening gratuiti dell'ASL per la prevenzione delle patologie oncologiche della mammella, della cervice uterina e del colon retto. Da sabato a martedì il camper sarà nell'ordine a Deboli, Rocca d'Aspide, Agropoli e Vallo della Lucania. A bordo dello stesso sarà possibile effettuare un pap test, prenotare la mammografia gratuita e ricevere materiale ed informazioni utili.